Ciao Charles Lee Ray, sono la bionda svampita, raccolgo la sfida dell'uovo. Vediamo, ok, allora dunque, quest'uovo scade il 2103, dopo lo apriamo e ti faccio vedere che è un uovo vero. Ovviamente io sono convintissima che non ci riuscirò mai a farla sta cosa, sono proprio convinta, però. E' il baricentro, ci sono i miei cani qui, in automatico poi dopo darò al loro l'uovo, se ci riesco. Senza fare come ha fatto Colombo, no, se levo il dito si leva, non riesco, se levo il dito si leva. E' assurda sta cosa, ma come cazzo non è possibile? Tu dici velocizzo, non velocizzo, non si può, se levo il dito casca. Oddio, lo sentiamo in giro, no? Oddio mia, è assurda sta cosa. Aspettate, lo lascio così, così lo continuate a vedere e prendo un recipiente svampito, quindi questo viola, per far vedere che... Posso dire Colombo mi fa una pippa? No, non si può dire, metti il bip. E' sempre lui, è l'uovo. Se riesco... Oddio, ecco qua. Ta-da! Ci sono riuscita? Ovviamente le ciotole, la piccola deve mangiare di più, loro mangiano la sera, ma... Gli ci ho meschiato l'uovo, è giusto così. Ovviamente gli ci ho messo l'uovo. Uc, pan e morgan. Ciao a tutti dalla Bionda Svampita! Ciao a tutti!